Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Beh ragazzi, grazie, siamo andati con un nuovo episodio del 8 di 1 E questa è la situazione della classifica Dopo 3 partite, 1-1-1 Una sconfitta, una vittoria e un pareggio Quindi, che dire? Niente, andiamo male Spam, Royce senza contratto, subito contratto da 99 partite Vediamo la squadra, vediamo la squadra Vediamo la squadra, 69, quindi non dovrebbe essere troppo forte O le... perché non sto zitto? C'ha Starling, Sterling C'ha Sterling, c'ha Shurley, c'ha Lukaku C'ha Lukaku che ogni volta è una dita al culo C'ha Ramsey, Gordon Oh, 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 subito Oh, impressione incredibile, ancora i vecchi trapani avanzano Ciro, Ciro? Avanzano i vecchi trapani, lo vedi? Che cazzo fai? Comunque abbiamo arrivato in mobili perché con Ramos non ci troviamo, regà Sarà forte quanto vi pare, ma si troviamo meglio con i mobili Partito le kondoschi? No, partito Ciro, 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 Ciro! Ma che cazzo? Ma che è? Meglio Ramos Ma che ciro era? Io mi aspettavo di una bomba tutti d'incrocio Hai preso di... Tua È mia È leva al gioco No, 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 tranquillo, tranquillo, tranquillo Olè Tranquillo Quattaci Mi sono levato, meno male Mamma mia Bello, bello Che cazzo era dritto Eh no, mi stava toglie Dai, ciao Mamma mia Robert Lewandowski segna solo lui Ne trovo, Robert Basta, non mi storcare il nome di leva Bello, Sterling Decidi di... No, per Sterling Eh, mamma mia C'è Umelz Umelz, con tranquillità, ancora Umelz Guarda Ciro La palla per Gozze Appoggia Ciro, che appoggia Aubameyang Aubameyang C'è ancora Gozze Che porco tu Ma come sta? Ma come stai te? Ma come sta lui? Ma io sono andato dritto Io già ero pronto a crossare Lewandowski corde testa Oh, bella, io riesco Lo vedi lei va in mezzo? Lo vedi lei va in mezzo? Che? Ma poi ti la talla con Aubameyang Tuoi soldi dove c'è via? Ma che c'è via? Ma che c'è via? Ma che c'è via? La c'è via Vedi che tanto hai da là? Eh, ho capito, quando ti hai allargati No, io Vedete stavi di là, però Io sei uno centrale Che cazzo dici? Bello Mi è piaciuto No, per te Robert La palafiltrante per immobile troppo lunga Non ti dà, non ti dà 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 Non ti dà Non ti dà Non ti dà Basta, basta Ma mamma, mi spoglio qui diretta Vai Aspetta, guarda le parti Non so, sto con benedianza Voi che fa Oh, no, adesso Adama Pensavo che era fuori Ma che fuori Ma non ti alzare mentre far video ogni volta, oh Ma era fuori Non era fuori Era uscita Non era uscita Vabbè, aspetta un attimo Ma doveva città qua Che le rialzate È doveva città Facebook, scusate Cazzi, Facebook Meglio che si sento un trilo piuttosto che impiamo un gol Ma è fuori gioco, ma come stai? No, sto parlando di che la scusate tutti, scusate Oh, regà, ero sicuro che era fuori con la palla E tu ti dà, no, adesso Quella ha crossata segnata Oh, Dio Che palle Poi Luca quando tu tu segnali Mi sta pure sui le palle No, che è quel buco, là? Romale, romale che è stupido Romale, la f***** 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 Ancora, ancora Ma sei un po' al conto perché cambiano i giocatori all'ultimo? F***** No, perché carichi sempre così tanto? No, no, carichato tanto su un pocae o un grande punto un po e ce l'ho dato fancuno non so io non è possibile fallo per lui non è possibile non è possibile non è possibile dai dai ragazzi comunque dai su questo momento che sta a fare dai però la cosa da una scossa mamma non ho una mossa posta il 64 c'è il tempo c'è il tempo c'è bello bello eserciò troppo prima calcola quasi aspettato gli schiena guardato su un momento giusto ma che buona ma che buona non fare cazzate non fare cazzate va bene così non fare cazzate non fare cazzate non fare cazzate ogni parte dico non fare cazzate segna a posto lui vabbè sei sempre lui dall'ora eh sempre lui non fare cazzate vabbè dai 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 non vinci si può fare guarda che tu ho tagliato chi mobile perfetto si mamma mia 3 a 2 incredibile leva leva l'ultimo ho fatto un ginocchio mi fa orfogani passaggio di cristo e non vedo il mio occhio a su che cazzo ha messo 3 ore per farlo controllo io e che cazzo ha fatto un'almobile va bene va bene va bene va bene va sempre tutto bene vabbè da cazzo sì eh guarda che ho fatto un po' sta livezza se no oh oddio via metti in angolo metti in angolo che metti in angolo l'unica un po' d'arco vai ecco fai piazza palla un pallato muovere non è possibile oh no eh si dai dai continuo spazza 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 augmente dai 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 mamma mia vai così grande roberto roberto di mio vai no ieri come se voli tu sulla traversa noi ci vediamo al prossimo video vittoria importantissima mamma mia dai è così bella ciao 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 ciao